Musica Appena arrivato innanzitutto non era piano giorno perché era l'alba Stava per fare giorno, per salire il sole, erano poco prima delle 6 Fine agosto, quindi si andavano a ridurre le giornate E c'era un forte odore di gas Un forte odore di gas e tanta polvere Tanta polvere ancora alta perché appunto era successo da relativamente poco E quindi la sensazione è stata quella di un... Sembrava quasi di vivere un sogno, una cosa mai vista, mai fortunatamente provata Una sensazione che però non mi aspettavo perché pochi metri prima di salire su ad Amatrice Le case, le abitazioni erano ancora tutte in tante Mentre venivo su e sentivo la radio che diceva che era successo Che Amatrice e i paesi intorno non c'erano più Però vedevo possibile che qua è tutto così, non è successo nulla Quindi probabilmente neanche su Amatrice allora ci saranno questi grandi danni Come arrivato c'era l'ospedale con pochi danni, relativamente pochi Ma dopo la prima curva era proprio un altro mondo Bypassato proprio in quel momento Un'altra dimensione Sono entrato dentro il centro storico di Amatrice Con ancora il fuggi-fuggi dei vigili del fuoco La produzione civile di tanta gente che era appena uscire da casa Stava cercando di uscire fuori e trovare una sistemazione Quel poco che aveva addosso I sentimenti sono stati innanzitutto Quello di andarmi a cercare un parente, un cugino Che in quei giorni stava in vacanza ad Amatrice E la sorella mia aveva appena telefonato per avere notizie Perché non riusciva a contattarlo Quindi sono riuscito a intrufolarmi in Roma nel corso Lui abitava per fortuna all'inizio E purtroppo però la casa non c'era più E neanche lui Lui, la moglie, i suoceri per fortuna le bambine Sono salvate perché stavano in un'altra parte alta della casa E il primo impatto con il terremoto di Amatrice Oltre al fumo, all'odore e alla visione È stato anche vedere proprio lui fisicamente Proprio nudo lì per terra Copersi da un lenzuolo Ma era il mio cugino che stava all'anno Da una parte dovevo chiamare a casa Per dire quello che era successo alla sorella Di questo nostro cugino Dall'altra dovevo rispondere e mandare le immagini In una situazione che non vi dico com'era Non c'era copertura internet Quindi 4 minuti fatti al volo Mandate perché show must go on E quindi andava fatto E il TG1 ha mandato in onda le immagini In edizione delle 8 E una macchina è stato il primo a mandare le immagini nazionali E il TG1 ha mandato in onda le immagini nazionali E il TG1 ha mandato in onda le immagini nazionali E il TG1 ha mandato in onda le immagini nazionali